La funzione Marketing Locale mostra i rapporti sul posizionamento del tuo sito web in base alle parole chiave scelte e le classifiche sulle posizioni nei risultati di ricerca del tuo sito e quello dei concorrenti. Le opzioni delle sezioni possono variare in base al piano che hai acquistato. Dalla sezione Profilo aziendale puoi inserire i dati della tua attività, quali Indirizzo e dati di contatto, una descrizione breve e una dettagliata dell'attività. Puoi specificare eventuali orari di apertura e puoi caricare il tuo logo aziendale o altre foto che descrivono un'azienda. La sezione Dettagli del profilo ti consente di gestire i servizi e gli attributi aziendali. I servizi illustrano ai clienti le funzionalità e i vantaggi offerti dalla tua azienda. Inoltre li aiutano a scoprire la tua azienda quando cercano un servizio che hai inserito nell'elenco. Gli attributi sono un ottimo modo per comunicare informazioni sulla tua azienda e aiutare le inserzioni del tuo profilo aziendale a distinguersi quando i consumatori cercano aziende pertinenti. La sezione Sincronizza il profilo è utile a pubblicare e sincronizzare i dati in Facebook e Google My Business tramite la dashboard di Ranking Coach. Per farlo però dovrai prima collegare il tuo account. Inoltre è possibile selezionare dove pubblicare e sincronizzare i dati su Facebook, Google My Business o inoltre 26 directory locali. E per concludere la sezione Statistiche che mostra tutti i rapporti sulla presenza del tuo sito sulle principali directory aziendali.